Fermi tutti, oggi ho una grandissima rivelazione Ciao a tutti, sì avete sentito bene, mentre facevo un po' di ricerca per i prossimi video sono incappato in una delle nuove tendenze, ma che dico, la nuova tendenza e sto facendo riferimento alle sciarpe per le caviglie eh sì perché dopo la moda dei risvoltini bisognava porre rimedio ai freddi patiti da migliaia e migliaia di giovani e meno giovani e sarebbe stato troppo semplice srotolare i risvoltini o comprare degli scaldamuscoli oppure comprare i pantaloni della misura giusta molto ma molto più fashion acquistare delle praticissime e comodissime sciarpe per le caviglie ma passiamo subito a vedere l'articolo che ha scatenato il tantam mediatico e leggiamo subito il titolo che inizia con il nome del brand che è YRXDD di sciarpa di seta della sciarpa della caviglia e sciarpa di seta di seta di seta di seta lunga se non avessimo capito è di seta la sciarpa di autunno piccolo sciarpa piccola color khaki e andiamo alla descrizione sicuramente questo titolo è molto accattivante materie prime di alta qualità e confortevoli non è nocivo per la pelle che è molto importante come qualità può sopportare da basse temperature caldo sentimenti quindi anche se siete un po' arrabbiati o siete un po' girati lui può sopportare i vostri sentimenti e capirvi tenere in un luogo fresco e asciutto e ventilato piega piatta per evitare di deformare quindi mi raccomando a come la riponete nessuna deformazione non sbiadisce e facile da pulire tocco morbidi e delicati colori belli in effetti questo color khaki è veramente stupendo e bellissimo chi non vorrebbe avere una sciarpa di questo bellissimo color khaki però in effetti vediamo che oltre questo bellissimo color khaki abbiamo anche questo color viola tendente al rosso tendente al ciclamino e un color nero per i più sobri ma passiamo alle caratteristiche tecniche del prodotto e quindi abbiamo una larghezza di 50 cm per una lunghezza di 180 cm in effetti perché fare una sciarpa piccola che quasi non si vede e non vi tiene caldo quando potete avere una sciarpa per le caviglie di 180 cm per 50 cm il materiale è ovviamente la seta di forma rettangolare applicabile stagione primavera autunno estate inverno quindi potete usarla veramente in ogni stagione dell'anno e addirittura questa sciarpa ha un sesso sì perché il sesso è femmina stile sciarpa foulard di seta funzione caldo perché solitamente le sciarpe fanno freddo giusto? quindi questa sciarpa invece fa caldo oggetto applicabile giovani persone di mezza età e la vecchiaia perché si impersonifica nella vecchiaia anche stile giorno serie quindi di notte è meglio non utilizzarla dettagli di moda catena modello fioripiante e l'ingrediente contenuto attenzione è il 96% e questo cambia totalmente i giochi perché con un ingrediente così non potrete veramente più farne a meno il 96% non si sa bene di cosa, perché e per come vi cambierà la vita lo so, lo so, vi aspettavate qualcosa di più fashion ma non sottovalutate le caratteristiche appena descritte perché sono queste a far la differenza ad ogni modo lascio decidere a voi se sia un banale errore in traduzione se sia la solita cara e vecchia bufala o qualche genio del marketing della YRXDD Scarf che si è inventato questo stratagemma per vendere più sciarpe oppure se sia veramente la nuova moda tra i giovani potrete avere questo esemplare di sciarpa di seta della sciarpa della caviglia in questo bellissimo color khaki a solo e solamente 51 euro e 10 centesimi cioè vi rendete conto la grande opportunità e non ultimo ricordatevi di lasciare la recensione su Amazon perché ancora nessuno è riuscito ad esprimersi su questo meraviglioso capo ovviamente vi lascio il link in descrizione e fatemi sapere se avete avuto il coraggio di acquistarlo ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao